Abbiamo la forza di spiegare al Presidente del Consiglio che peraltro le elezioni anticipate in questo momento sono estremamente pericolose perché salvano sì il gruppo dirigente del PD, ma probabilmente consegnano il Paese a delle forze politiche che non sono pronte a governare. Quindi lei è contrario alle elezioni anticipate? Io sono contrario a non fare il congresso del PD prima delle elezioni. Io vorrei che questo partito che ha combinato molti disastri avesse la possibilità di ragionare sugli errori commessi e proporre una piattaforma alternativa, altrimenti nella mente degli italiani rimarranno solo i disastri che abbiamo combinato. Giorgio Napoletano ha parlato su questo tema delle elezioni anticipate, il nostro Presidente Merito, nei Paesi civili si va alle elezioni a scadenza naturale e da noi manca ancora un anno, in Italia c'è stato un abuso del ricorso alle elezioni anticipate, ha detto il Presidente della Repubblica, quindi mi pare che ci è schierato contro... Allora, facciamo uno scoop, tutta l'Italia, tutte le persone che hanno delle responsabilità sanno che è meglio andare a votare a tempo debito, nessuno ha il coraggio di dire a Matteo Renzi adesso basta, adesso ti devi fermare, non devi smettere di pensare a te stesso e devi pensare al Paese, nessuno ha questo coraggio salvo alcuni. questi pochi stanno raccogliendo le firme, ecco grazie, perché è uno strumento statutario, noi chiederemo in questo modo di fare un referendum... Cioè un referendum per gli iscritti è questo? Certo, no, è un referendum richiesto dagli iscritti, dalle firme degli iscritti al PD, ma può essere esteso anche ai non iscritti per chiedere agli italiani, voi volete che il PD faccia il congresso prima delle elezioni e vi faccia una proposta programmatica più chiara e definita piuttosto che andare a votare solo per prendersi un po' di poltrone e basta? Questo è il concetto del referendum. Dopodiché se però non è iscritto al PD vi chiede di fare un congresso c'è qualcosa che non va perché dovrebbe chiedere... Perché il nostro sistema è così, anche il segretario viene eletto da chi non è iscritto al PD con le primarie. All'epoca D'Alema disse una frase sull'amministratore di condominio, si ricorda? Non lo scelgono i condomini... E' una vecchia polemica che deriva da una vecchia concezione del partito. Oggi sui giornali ho letto che io avrei paragonato D'Alema a Renzi, ho detto che sono la stessa cosa sull'unità. Si fermi perché su D'Alema mi deve spiegare meglio che appunto chi non ha letto l'intervista deve sapere cosa pensa. Il titolo è completamente forviante, non ho mai detto che D'Alema è uguale a Renzi. D'Alema ha fatto, devo dire, un lavoro politico importantissimo, generoso, perché il presupposto di tutta la sua azione è che lui non sta lavorando per se stesso, questo è un fatto straordinario, non accade quasi mai in politica. E' vero certamente che io non sono una persona riconducibile a D'Alema. Io e lui abbiamo sempre avuto notevoli problemi di politici, nel senso che non siamo mai stati perfettamente allineati, però è un uomo che ho sempre rispettato ed ascoltato, anche qualche volta per fare diversamente da come lui proponeva. Quindi Emiliano non corre per D'Alema ma rispetta D'Alema. Ma sarebbe una cosa riduttiva, nel momento in cui stiamo cercando di salvaguardare l'unità del Partito Democratico. Se uno pretendesse di candidarsi come rappresentante dell'area di sinistra del partito, in particolare dell'area dalemiana, che è un'area che ha già svolto la sua funzione storica, noi invece adesso abbiamo un padre della patria. Mi devo rispondere rapidissimamente a un'ultima domanda che abbiamo poco tempo. Se Renzi non accetta di fare il congresso, se lei non riesce a portare il PD al congresso per il quale poi si candiderebbe a segretario, sarebbe a quel punto possibile che lei diventi il candidato di una cosa rossa a sinistra del PD? Guardi, io questa ipotesi preferisco non farla perché altrimenti si verifica, non dirla perché altrimenti si verifica. Se tu hai un problema grave e vuoi sciogliere una società, vuoi sciogliere una famiglia... Ma la esclude? Queste cose non si possono mai escludere. Quello che bisogna fare è non pronunciare, non pensare in quella maniera. Perché se cominci a pensare che l'unica soluzione per risolvere il conflitto sia far cessare la solidarietà tra di noi, noi abbiamo già innescato la scissione. Noi dobbiamo evitarla in ogni modo e credo che la gran parte, persino dei renziani, sa che se noi facciamo un congresso, non solo Renzi ha la possibilità di vincerlo e rilegittimarsi perché potrebbe tornare dagli elettori con una forza diversa. Ma anche ora lo perdesse, rimarrebbe un importantissimo interlocutore del vincitore.